bentornati cari amici del canale 2000pc oggi andiamo a vedere la nostra posizione sul cashback di stato per ottenere il super cashback con i 1500 euro che lo stato versa a chi entra nelle prime posizioni ovvero nelle prime 100.000 posizioni che va dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021 allora nelle scorse puntate abbiamo visto come configurare il banco posta sul cashback la post pay il banco matto della banca ora andiamo a vedere la nostra classifica accendiamo internet andiamo nell'app io faccio entro con speed io post id andiamo a mettere le nostre credenziali entra con speed in questo caso possiamo entrare sia con codice sms sia qui giù tramite app post id basta fare clic qui intanto ora mettiamo il codice sms ok facciamo a consento siamo entrati nella nostra applicazione ora dobbiamo andare su portafoglio andiamo nel simbolino cashback clicchiamoci una volta eccoci qua come potete vedere le tue c'è scritto le tue transizioni e la tua posizione noi clicchiamo sulla tua posizione ecco classifica del super cashback dice tu sei tot in classifica non dico numerico e hai fatto tot transizioni per per ricevere i 1500 euro giù c'è scritto anche l'ultimo dei 100.000 che ha fatto tot transizione per essere appunto nella posizione dei primi 100.000 e la classifica naturalmente sarà quella di mitica sarà visualizzata del 10 7 2021 ok bene torno indietro andiamo su le due transizioni e qui possiamo vedere tutte le transizioni che sono state fatte appunto per sia per il cashback e sia per il super cashback torno indietro e resto nella mia app bene cari amici ci vediamo al prossimo video mettete un mi piace scrivete nei commenti se vi è piaciuto il video e se avete un video proporre per le prossime volte scrivetemelo che lo facciamo insieme ciao un saluto